Il Sarnese è in buone condizioni di forma, ha incontrato un'ottima squadra, riduce da una vittoria importante esterna. Noi l'abbiamo messa sul dinamismo, sulla grinta, sull'applicazione tattica. Abbiamo studiato la partita contro il 3-5-2 avversario. Siamo riusciti tatticamente a trovare le contromisure giuste in gara. Non era facile e alla prima disattenzione le abbiamo puniti. Nel secondo tempo poi potevamo chiuderla con l'accelerazione di Maione terminata sul palo. Poi ci siamo difesi e abbiamo contenuto abbastanza bene la partita. Potevamo sfruttare anche di più le ripartenze perché comunque eravamo schierati con tre attaccanti. Due attaccanti esterni più Maione. Ho chiesto loro di avere un po' più di equilibrio in mezzo al campo. Ci siamo messi a cinque. Abbiamo rischiato poco. La squadra di casa si è resa pericolo su palla inattiva in un paio di occasioni. Ma tutto sommato credo che non abbiamo sofferto tanto. Quando io vi dico delle cose le dico sempre con cognizione di pausa. Quando io vi dico che questa è una squadra a Bordellanne è così. Perché? Perché è bastato prendere un gol. Che vabbè è normale ma per l'amor di Dio non ce lo siamo fatti da soli. L'abbiamo visto tutti ce lo siamo fatti da soli. E' bastato prendere un gol per andare fuori di destra. E' una squadra, come vi dico io, una squadra matura, una squadra forte non può perdere la testa. Perché sennò poi diventiamo presuntuosi. Dove sta scritto che non possiamo andare sotto noi? Ma con chiunque che si chiami Sarnese o Cirignola. E allora che vuol dire? Che prendiamo un gol e andiamo fuori di testa? Per questo io vi dico, quando io vi dico che il problema di questa squadra è la tenuta psicologica mi riferisco proprio ad oggi. Né più e né meno. Cambia il risultato rispetto alle altre quattro partite. Ma anche oggi c'è stata la prestazione. L'unico neo, torno a ripetere, l'unico neo, e gli ho già detto anche ai ragazzi, ovviamente in modo molto sereno, che non possiamo perdere la testa se andiamo sotto. Ma non esiste. Oppure voglio dire, eppure siamo diventati Barcellona che in primo tempo doveva finire 3-0 perché di fronte avevamo una Sarnese a cui farci contumenti. Ma noi siamo diventati presuntuosi. Non esiste, ci sta. Ci sta perché le delusioni nella vita avvengono quando ci sono delle false aspettative. Noi non ci dobbiamo creare false aspettative. E noi siamo questi, nel bene e nel male. Ciao.